È importantissimo dare un segnale molto netto sulla Bielorussia come Europa. Penso che ci serva sempre di più una voce sola, peraltro deve valere sempre, per quanto mi riguarda, laddove ci troviamo, come in questo caso di fronte a un'involuzione autoritaria molto preoccupante. Abbiamo avuto diversi episodi, tra cui l'ultimo, quello incredibile, riguardante l'aereo. Quindi è importante che l'Unione Europea ci sia, ci sia al fianco delle persone, delle donne e gli uomini della Bielorussia, per far vincere una logica democratica e si mobiliti attraverso azioni straordinarie, come può essere la conferenza internazionale, proprio per una responsabilizzazione corale di tutti, sia delle istituzioni europee che dei diversi stati nazionali, proprio per dare un segnale nettissimo e non minimizzabile, nel senso che non possiamo fermarci a periodiche condanne. Ci vuole un'azione politica, diplomatica, intensa e continuativa, nel segno della totale solidarietà data nei confronti di chi cerca di praticare una libertà che in questo momento non gli è chiaramente garantita.